Oggi andremo a fare davvero qualcosa di epico Ti prego scioppa 8 7 6 Accelera Avremo un solo game a disposizione Una sola partita Un solo circuito Per stabilire il record di punti esperienza All'interno di questo canale Ma prima Se anche tu vuoi gratis il nuovo pass battaglia di questa nuova season 3 Mi raccomando iscriviti ora al canale E attiva la campanella delle notifiche Lascia ora like a questo video E non ti scordare di inserire all'interno del negozio oggetti Il mio supporto a un creatore R4SCO Perché quando uscirà la nuova season 3 Io andrò a fare una live Dove andrò a regalare 10 pass battaglia A 10 fortunati di voi Che stanno vedendo questo video Quindi mi raccomando Iscriviti ora a questo canale Lascia subito un bel like E non ti scordare Il mio supporto a un creatore All'interno dello shop R4SCO Ok la nostra challenge Ho ufficialmente inizio Come potete vedere Mi sono diretto alla grotta Perché devo andare ad aprire Un forziere protetto dallo scanner ID Quindi sbrighiamoci Perché sarà una corsa contro il tempo Dovremmo anche essere molto molto fortunati Perché la tempesta Dirà la sua In quanto se chiudono in una posizione sbagliata Noi siamo fritti Io comunque nemmeno me ne so accorto Ma abbiamo già lioellato A livello 200 Buono 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 Anzi Nice So nice Stiamo già raggiungendo moli molesti Ci dobbiamo Oh mio dio Ok bene Già ci sparano No buono Questo per noi Siamo senza shield Siamo senza tutto E di più Non possiamo sbagliare Dov'è questo individuo Oh sono più di uno Sono più di uno Io me ne vado via Dobbiamo assolutamente sbrigarci Mega fortino così Nella speranza che non ci vengono A pushare Prendiamo qui questa chiave Ora di qua Dobbiamo correre Rompiamo questa parete Ci dovrebbe Sono vicinissimi Oh mio dio Ecco fatto Ecco fatto Aiuto 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 Perfetto C'è una chest L'apriamo Pistola Oh mio dio Oh no Ok scappa 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 Elicottero al volo E mega fugone Non so dove sono quei player Penso stiano fidando tra di loro Andiamo 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 Perfetto Abbiamo già raggiunto Abbiamo superato il livello 200 In un attimo Siamo al livello 201 Ottimo Non ho tempo di ci allengiare Contro nessuno Anche perché potrei morire E bye bye Sogni di gloria Quindi sbrighiamoci Andiamo ad aprire Quest'altra chest Chissà troviamo un po' Di shieldini Sarebbero E te pareva però Questo me lo prendo Ok Altri punti Esperienza stra buoni Siamo lì A metà del livello 201 Stiamo andando alla grandissima Subito l'elicottero di nuovo E questa volta ci dirigiamo All'interno dello yacht Qui sarà difficilissimo Non penso sia sceso Nessun nemico Allo yacht Almeno spero Ma sicuramente I scagnozzi Non ci daranno Vita semplice Io quasi quasi Oh mio dio no Non vedo nessun scagnozzo Non è una buona cosa Questa No Non è una buona cosa Nemmeno quest'altra Ok perfetto Mi sono travestito Al volo Da scagnozzo No 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 scagnozzo nero Sei uno scagnozzo bianco Vero Ok Sono anche bloccato Perfetto Non abbiamo tempo Sbrigati Ok mi sono sbloccato Intanto sistemo l'arsenale Qui non posso far fuori Nessun scagnozzo Mi conviene Ok Tu sarai la mia vittima Tesoro Vieni qui cucciolo E arrivederci Ottimo Abbiamo conseguito Un'altra challenge Ce ne dobbiamo andare Prima che ci sparano Perfetto Livello 202 Ottimo Oh mio dio Stavo guardando il cerchio Della safe E ha chiuso malissimo Per noi Perché poi dovremmo Recarci nella parte inferiore Della mappa Perché dovremmo andare A pantano palpitante Ma dobbiamo fare davvero Una volata Oh mio dio C'è un nemico qua sotto Che ha fatto fuori Due player Speriamo che non ci spari Ok Noi stiamo passeggiando Belli puliti Perfetto Non ci ha sparato Lì c'è un altro player Avversario Mamma mia Quanti imprevisti Sbrighiamoci ad andare A parco pacifico Abbiamo 4 minuti Devo fare una kill A parco pacifico Per poi spostarci A pantano palpitante Che dista esattamente 1400 metri Oh madonna Ok Lo scagnozzo Ha fatto fuori Un player Io faccio fuori Lo scagnozzo Ombra Buono mamma mia Sì Sì Andiamocene Che fortuna Stanno fai dando Tra di loro laggiù Ottimo Abbiamo quasi raggiunto Il livello 203 Stiamo andando alla grande E ora ci dobbiamo sbrigare Oh mio dio Dove sto andando Pantano No Sta arrivando la safe a pantano No non abbiamo nemmeno cure Oh mio dio Non è una buona cosa Questa qui Corri 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 Ok siamo arrivati a pantano palpitante Troppo dall'elicottero Non ti ci mettere anche tu elicottero Devo prendere assolutamente qualcosa Ok La canna da pesca è ottima Però ci dobbiamo sbrigare Devo pescare un pesce All'interno di pantano palpitante Ok Mi sto riprendendo vita piano piano Ma non credo che poi Riusciremo a tornare San e salvi A tom Corri corri con questo pesce Dai No non ci posso credere Non ci posso credere Siamo sfortunatissimi Dai 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 Veloce 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 Dai un pesce Deve uscire fuori un pesce Dai sbrigati Sbrigati Oh mio dio non credo di farcela Abbiamo 40-38 di vita Mancano 400 metri 30 di vita No non ce la facciamo Non ci posso credere Non ci posso credere È andato tutta la perfezione Sicuramente c'è un lama Che ci potrebbe aiutare No perché abbiamo 20 secondi Oh mio dio Oh mio dio 20 secondi La tempesta è qui La stiamo raggiungendo piano piano È una corsa contro il tempo 15 secondi 14 13 è qui 12 10 Accelera Ciappa Ti prego Ciappa 8 7 6 Accelera 4 3 2 1 Salve 2 Non ci credo Questa è una challenge assurda Questa è una challenge assurda Oh mio dio Siamo ufficialmente morti Però se troviamo un nemico Siamo spacciati Dovevo fare ancora altre challenge Però purtroppo Malgrado la safe Non sono riuscito a completarle Io vado qua sopra Nella speranza che non ci siano nemici Spero tutto nella fortuna Su questa chest Chest Dammi un medikit Cildone buono Fiocine adesso è tutto nelle tue mani Pesca Dei saporitissimi pesci Ok Bambola Proprio questi ci servivano Per ridarci molare E grinta Ora dobbiamo fare anche un'altra challenge Vediamo se riusciamo a trovare Un altro punto di pesca Eccolo laggiù Andiamoci velocemente Abbiamo 40 secondi E parte la tempesta Ok Mamma mia La gente pesce secco Quanto è veloce Dobbiamo far esplodere Un punto di pesca Oh no Non riusciamo a farlo esplodere Ok abbiamo un problemino Purtroppo Allora io in questo caso Mi continuo a pescare un po' di pesci Questo lo mettiamo via Dobbiamo assolutamente trovare qualcosa Un motoscafo Per far saltare in aria Un punto di pesca Altrimenti siamo spacciati Oh mio dio Quello che abbiamo vissuto con il chop È stato incredibile Ce l'abbiamo fatta con due di vita Non ci posso credere Che siamo sopravvissuti Siamo stati sfortunati Nella tempesta Purtroppo Questo episodio ci ha fatto saltare Due challenge Però siamo stati fortunatissimi Con l'elicottero Due di vita È incredibile Dobbiamo trovare assolutamente Qualcosa Che ci permetta Di far esplodere Un punto di pesca Speriamo nel C4 Qua dentro No Però questo qui Me lo prendo volentieri Eccole Oh mio dio Mi dispiace Pistola ora Ti devo troppare Devo assolutamente Trovare un punto di pesca Ora E farlo saltare in aria Nel mentre siamo rimasti in 10 Sento spari Alla mia sinistra Ma attualmente Non ci interessa di niente Dobbiamo assolutamente Far saltare in aria I nostri pesciolini All'interno del fiume Speriamo di trovarlo qua davanti Ok Credo di averlo avvissato Dopo la casa del mulino bianco Vediamo se è vero Sì 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 Official Non so se va a esplodere Con le granate Ma spero E credo di sì Vediamo se è vero Oh mio dio Andiamo 204 204 Vamos Questa challenge È stata epica Questo video è stato epico Mi raccomando Se ancora non avete Troppato un bel like È ora Il momento di lasciare like Si stanno sparando Da tutte le parti Nel mentre Uh C'è un nemico Ok Bello tranquillo Fermo 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 Oh mio dio Ho sparato nel nullo E l'ho chillato Buono 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 Anche una kill Ci siamo portati a casa Vieni qui Andiamo Double kill 5 player alive No abbiamo fatto 2 kill Non male Dobbiamo assolutamente andare a lootare Dobbiamo prendere qualcosina Io sono senza terza arma Ecco qui Ci prendiamo questa mitraglietta Che è buonissima Ci rifollicilliamo anche un po' di tutti i materiali E varie munizioni E soprattutto andiamo a controllare Se c'è No 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 Ok sì Possiamo maxare la nostra mitraglietta Che abbiamo preso precedentemente Not bad Ehi là Dove scappi Ti ho visto Miascolo No Sargente Miascolo 3 player alive Oh doppia mitraglietta Che non ci interessa Ci prendiamo Ci prendiamo le granate A questo punto Andiamo 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 Le cose diventano interessanti Qui abbiamo Qui abbiamo qualcosa che ci interessa davvero Mi prendo questo tac blu Molto meglio Mamma mia Qui si sono distrutti Io passo e sciagallo Qualsiasi cosa Da bravo viscido Siamo ancora Oh mio dio È uno contro uno Non me ne sono accorto Che hanno killato Uno degli ultimi due rimasti E ora bisogna capire Dove si trova L'ultimo player Dove sei Oh eccolo Ci sta Oh mio dio Ci sta attaccando alla grande Non ho idea di dove sia però Oh mio dio Ci ha fatto malissimo Dobbiamo inventarci qualcosa Scegliamo così No Siamo arrivati secondi Non ci posso credere È stato un game Allucinante Questo qui È stato un game Allucinante Purtroppo Non l'abbiamo concluso Al meglio Non l'abbiamo Concluso al meglio Ma abbiamo fatto davvero Il record Dei record Siamo andati a totalizzare I 353 mila punti Esperienza Se ci mettiamo Anche più I 18 mila punti Che abbiamo fatto Nel game Esce un totale Di 371 mila Punti esperienza Peccato per le due Challenge Che non abbiamo fatto E ognuno di loro Vale a 40 mila punti Esperienza Perché andiamo a Totalizzare Oltre i 400 mila punti È ufficialmente Il record Per il mio account Sicuramente Dovrò fare di meglio Vorrò fare ancora Queste challenge Vorrò fare ancora più punti Scrivetevi qua sotto Nei commenti Qual è stato il vostro record All'interno di questo Capitolo 2 Della stagione 2 Di Fortnite Per quanto riguarda Ovviamente I punti esperienza Se ne avete fatti Più di me O meno Io vi ricordo sempre Di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Delle notifiche Non ti scordare mai Di inserire R4SCO All'interno del negozio oggetti Perché ormai ci siamo Manca davvero poco Giovedì ci sarà la live Della nuova season 3 Dove andrò a regalarvi 10 pass battaglia A voi che avete fatto Tutti e tre Questi passaggi Quindi mi raccomando Ci vediamo anche domani Con altri nuovi video Non vi dimenticate I tre passaggi E l'estrà